Il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba ha ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione albanese guidata dal viceministro dell'economia Brunilda Pascali. Tema dell'incontro i legami economici tra Piemonte e Albania. La delegazione era completata da Ardit Kollaku, direttore dell'Agenzia Albanese dello Sviluppo e degli Investimenti, e da Giovanni Firera, presidente onorario di Confindustria Albania. Abbiamo ricevuto qui a Palazzo Lascaris la visita del viceministro dell'economia dell'Albania, motivo per noi di grande orgoglio ma soprattutto motivo di conferma per quelle che sono le relazioni pregresse e future tra il nostro paese, nella fattispecie tra la nostra regione, il Piemonte e l'Albania. Sono ormai tre decenni che il rapporto, un rapporto già storicamente molto forte tra i due paesi, è andato via via consolidandosi. Noi siamo convinti che la comunità albanese sia una comunità fattiva, una comunità che ha delle grandi qualità e che possa dare un contributo insieme ai nostri piemontesi alla crescita del nostro territorio. Anche il Piemonte può aprire una via con il paese delle acque, l'Albania? Certamente sì, noi come governo siamo molto interessati ad avere gli imprenditori piemontesi in Albania perché rappresentano una parte molto importante dell'Italia, dell'industria italiana e anche del lavoro fatto in questi anni dai piemontesi. Noi abbiamo già tante aziende italiane ma riteniamo opportuno che vogliamo e accogliamo anche altri imprenditori interessati a venire in Albania.